Ci siamo, le candidature ormai sono ufficiali, ecco lei se la vedrà ovviamente con gli altri candidati perché si parla di uninominale, vince soltanto uno insomma nel suo collegio. Esatto, ne rimarrà solo uno e noi siamo pronti. Si continua una campagna elettorale corta, ma una campagna elettorale comunque per chi è sul territorio è poco stravolgente, sarà un pochino più intensa per gli appuntamenti, però di fatto io che sul territorio ci sono sempre stato, pur non essendo a retina, mai mi considero a retina d'adozione, però sul territorio ci sono sempre, quindi poco cambia. Una sfida vincente con Vincenzo Ceccarelli, ovviamente noi partecipiamo per vincere, un centro-destra che è unito, è compatto e quindi faremo una campagna elettorale tutti insieme proprio per arrivare a meta. Temi nazionali e temi, ovviamente come diceva lei, territoriali, partiamo da quelli nazionali, quali sono quelli più forti secondo lei? I temi più forti, bisogna parlare di lavoro, bisogna parlare di riduzione delle tasse, lavoro, non solamente lavoro ma anche pensioni, che è un tema a noi caro, abbiamo già da, con quota 100 nel conte 1, ora stiamo riproponendo quota 41 perché riteniamo che le persone debbano andare in pensione ad un'età adeguata anche per un ricambio generazionale ma anche per consentire semplicemente ai nonni di poter fare i nonni, 67 anni è un'età troppo avanzata, c'è la possibilità di andare prima, è giusto andare prima soprattutto per quelle persone che svolgono un lavoro pesante, riteniamo che dopo 41 anni di contributo sia il momento per mettersi a riposo e dedicarsi alla famiglia e ai nipoti. Il tema del lavoro, abbiamo visto, va cambiato radicalmente il sistema di sussidi nel nostro paese, abbiamo visto quanto il reddito di cittadinanza ha creato un cortocircuito del mondo del lavoro e di che se ne dica, noi lo viviamo anche a Rezzo che è una città turistica con albergatori, ristoratori che non trovano personale perché la gente preferisce prendere il reddito di cittadinanza e preferisce fare qualche lavoretto in nero piuttosto che un contratto di lavoro. Bisognerà lavorare sulla precarietà che è una cosa che riguarda soprattutto i nostri giovani, ma cambiare il sistema di sussidi è importante perché un ragazzo che si approccia al mondo del lavoro non va bene che si approccia a un reddito di cittadinanza perché se no non si avvicinerà mai al mondo del lavoro. Bisogna dare supporto alle imprese, al tessuto economico produttivo con una riduzione della pressione fiscale proprio perché continui a garantire l'occupabilità e possa continuare ad assumere. Ci sono tante cose da fare, abbiamo bisogno di fare riforme strutturali, noi lo vogliamo fare col sistema pensionistico, lo vogliamo fare anche con la riforma del mondo del lavoro perché non si può più pensare di lavorare nel breve periodo con un sistema bonus, bisogna limitare al massimo i bonus e mettere in campo delle misure strutturali.